Non me l'aspettavo neanche io sinceramente, mi aveva accennato il mister sabato di questa cosa, però non cambiava niente, mi ha detto di correre come avevo corso a Parma tutta la squadra e poi ringrazio pure Antonio che qualche consiglio me l'aveva dato prima della partita su come muovermi. Come trequartista mi trovo meglio perché sono più nel gioco, nel senso gioco più palloni, sono sempre nel video dell'azione e per le mie caratteristiche di come preferisco giocare io predico quel ruolo. Poi comunque il mister mi ha messo attaccante, con noi ho fatto l'esterno, oggi trequartista, l'importante è lo spirito di come si scende in campo. Oggi come a Parma abbiamo corso come i matti, come i dannati, anche a volte facendo delle corse inutili, però è quello l'input che ci ha dato Zauli da quando è tornato. L'anno scorso i punti li facevamo in casa e non fuori, quest'anno si sta dimostrando il contrario, però questa cosa è male perché in casa secondo me dobbiamo fare il nostro bottino e dobbiamo cercare di vincere le partite perché fuori casa è molto dura perché le squadre devono fare punti gli altri. In casa dovremmo fare qualcosa in più. Oggi la Ferral Pisolo a mio avviso è una delle squadre più forti che è venuta qui perché non è venuta a difendersi, molte squadre sono venute qui a difendersi e difficilmente noi creavamo. Oggi è venuta una squadra forte, ci è venuta a pressare alti, perciò abbiamo fatto fatica secondo me il primo tempo ad uscire. Poi nel secondo tempo giustamente la Ferral Pisolo ha abbassato il ritmo, noi siamo usciti fuori e giustamente per fortuna oggi la fortuna è stata da nostra parte e abbiamo trovato quel gol alla fine. Come tutte sono fondamentali, ma questa è diventata fondamentale perché uno per chiudere bene l'anno, anzi lo chiuderemo a Bassano, però per chiudere bene l'anno in casa. Poi con tutto il rispetto per il Lumezzane, però noi abbiamo molto di più bisogno di loro di punti, quindi in casa dovremmo vincere per forza la partita, ma non è che partiremo che dovremmo vincere per forza, però c'è poco da fare. Dovremmo fare una grande partita perché anche il Lumezzane gioca meglio fuori casa che in casa. Dovremmo fare una grande partita. Grazie.